Siamo a Sava, nel Tarantino. Nelle immagini che vi mostriamo, un cittadino recatosi presso l'ufficio Tributi, annesso al municipio, lascia esplodere tutta la sua rabbia dopo aver fatto ingresso nell'ufficio, scaraventando all'esterno delle sedie. Un funzionario dell'ufficio dichiara che il cittadino in questione avrebbe richiesto assistenza nella redazione di alcuni documenti. L'ufficio però, come dimostrano gli orari di lavoro affissi all'ingresso, non avrebbe potuto ricevere il pubblico nel momento in cui lo stesso avrebbe richiesto assistenza e supporto. Scene che diventano sempre più frequenti, in una quotidianità che proprio ora mostra purtroppo tutti i segni, gli strascichi e le conseguenze di una emergenza forse troppo dura da superare.